sono broccoli oggi è domenica e ora ti ucciderò proviamo questo broli signori non so con chi sto parlando dato che non è che ho fan scusami giovane c'è un po' in me non ho questo broli allora vediamo come sento selvaggio ma potente adesso ti mostrerò quanto sono diventato potente allora effetto ah tiene l'impeto uh è come forte onda energetica alla massima potenza muore ma c'è un po' in resistenza poi tenko 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 poi tenko praticamente questo kakaroth a tre stacchette praticamente che sta facendo perché non si rigenera altrimenti diventerebbe spaventoso una cosa però devo equipaggiare mai cibu con la rigenerazione come mai cibu è potente eh oh gesù ma che c***o che tecnica è fammi vedere questo kakaroth mi servono tre barb ora ah il kakaroth è massimo potere ma quanto è forte ma è un animale ed è forma base voglio ti ucciderò uccidiamolo per pietà mi spiace proprio lo voglio ancora vivo non lo facciamo soffrire che è simpatico è morto questa è solo la forma base ha 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 vensuite ho preso una sfera del dram proviamo il super saian 1 poi quello leggendario c'è questa è forma base ma chi usava mister sabrante? usava bro Ok Vediamo questa Super Saiyan Ok, ha un impeto Sì, ok Poi ha un attacco energetico Ah no, ha un impeto sempre Vabbè, questi già hanno un impeto Ok Ok Ma G-B, fammi provare, sono per C Attacco energetico, vado Poi ha seguito Ryan Praticamente aumenta tutte le Ma Ronald Ok Ok Ma vediamo Massimo Godile, che fa? Questa è la Finis E' una vecchia Ma che è un animale? Questa è Cacarod Vediamo se lo piglia, che... Quali sono i danni? Ok Ok A questo punto, vediamo... Finiamo con il Super Saiyan leggendario Ma che cazzo di potenza? Ma quanto ti levo? Ok 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 E un altro impeto E non ero nemmeno la... La Finis, o no? L'ho vista Ma che animale? I capelli verdi? Ora vada me Voglio combattere con lui alla massima forma però Grazie a tutti. Voglio combattere con Vroni. Forma finale. Vediamo. L'ha ucciso, dicono. Questa è qua, ok. Poi mi manca. Con la tecnica, quella lì, Kakarov. Ah, questa è quella di Nato. Sì. Mamma mia. Gunglo. Gesù. Dino che ucciderlo sia un atto di pietà. Mamma mia. Maronna, bestiolini. Sì. 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 Grazie a tutti.